Ben trovati da Tg della mobilità su Viale Trastevere, sono in programma da oggi lavori di scavo per un cantiere sulla rete elettrica, il cantiere sarà notturno sino al 2 agosto dalle 21 alle 6 è previsto il divieto di transito da Piazza Ippolito Nievo a Largo Bernardino da Feltri in direzione di Ponte Garibaldi. E' sempre a Trastevere in corso la festa dei Noantri 2024, sabato pomeriggio dalle 18 si svolgerà la processione con partenza e ritorno a Largo San Giovanni dei Mata dalle 17.30 alle 22 circa, possibili chiusure al traffico nel rione e deviazioni del trasporto pubblico, stessa situazione domenica dalle 9 alle 11 per una gara podistica.